Benvenuti signori in questo nuovo video, questa volta su GTA che da un bel po' non lo porto e ho deciso di moddarlo. E' stato un casino moddarlo. GTA è uno dei giochi più difficili da moddare secondo me. E ho aggiunto una roba che rende il gioco un caos. Ogni 10 secondi questa barra si riempirà, ora in questo momento è ferma, e creerà un caos casuale. Se questo qua mi richiama un'altra volta, mi prendo la k e lo sparo. Quindi, io tra poco faccio partire il timer. Il mio obiettivo sarà sopravvivere, ma sarà difficile, quindi dovrò sopravvivere e basta. E cercherò di morire meno volte, quindi non mi interessa. Ok, mamma mia quante volte mi chiama quello. Allora, faccio partire il timer tra 3, 2, 1... Ok, partito. E' partito, ho messo la radio, no non voglio nessuna musica. Ok, oh mamma mia, oh mamma mia. Io ho paura che adesso posso darmi un vantaggio, uno svantaggio, di tutto può succedere. Può pure fingere che mi crasha il gioco, perché stavo facendo la storia del gioco per essere qui. E mi aveva finto di crashare il gioco, io stavo impazzendo. Flamethrower. In che senso? In che senso flamethrower? Ehm, no, no ok, se ho messo non fa niente. Per ora è una cosa che non so... Cos'è? Ehm, se provo a scendere, io ho paura. Ma veramente tanta paura. No, adesso ne ho dato, non lo sai in macchina, sai in macchina, sai in macchina. Vabbè, vai, parte, parte, parte. Non dobbiamo mai stare film, perché puoi escire qual... Non so più parlare! Sono in ansia. Può pure uscire qualcosa che può fare... Pay respect. Oh, no! No, mamma mia. Recovering. Che senso? No, devo fare così per tutto il tempo. No, devo tenere tutto il tempo così, ma io devo pure salire in macchina. No, 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 no! Se non muoio, se non lo faccio. Oh, no, ti prego, quando finisce? Sta per finire, sta per finire, sta a destra scritto. Ti prego? Ok. Muffle d'audio. Che senso? No, si sente come il gioco, tipo, come fosse dietro una parete. Oh, mamma mia. No, è bruttissimo. Ma c'è di peggio, ma c'è veramente di peggio in sta mod. E vedremo ancora più avanti cosa ci sarà. Io sto avendo veramente tanta paura di quello che può succedere. Ok, signori? Manca pochissimo. Meteor show. Oh, no, 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 no. Stanno piovendo meteoriti. In che senso? No, 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 no. Poi con l'audio che... Con quel modo l'audio che sento malissimo, ti ha un fastidio. Oh, mamma mia. Perché sono pure la mia voce. Io non sono abito a sentire la mia voce. Aiuto. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. È la fine del mondo, in poca parola, adesso. Oh, mamma mia. Non devo schiantare. Oh! Fra! Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. È in bot pads. In che senso? No, non dimmi che... No, ok, no, niente. Scherzato. Aiuto. In che senso? È in bot pads. In pedondi dovrebbero essere. Cioè, scusa, se io scendo un attimo. Se io prendo un'arma... No, no. Non fa niente. Va, 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 va. Dobbiamo capire bene pian piano che ne sono tipo 100-200 di eventi. Quindi è tutto super casuale. Lock player inside. Bene, signori. Non posso più scendere dal veicolo. Vediamo. Se io premo F... Non va. Perfetto. Ma perfetto. Però... Oh! No, 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 no. Non posso far fuoco il veicolo. Io sono spacciato. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Devo scappare. Oh, mamma mia. Run, ball run. Dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. Dove posso andare? No, tra poco c'è un altro evento. C'è la mia casa. Posso scappare verso casa mia. Beyblade. Yo! In che senso? Oh, mamma mia. Oh, mamma... No, 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 no. Ok, facciamo una cosa. Devo raggiungere casa mia. Così sto al sicuro e... Spero. Quindi via, via, via. Devo andare a scendere casa. Sì. Devo partire, devo partire. Dove vado? Dove vado? Ma qua, che casino lì. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh. Beh, è bellissimo il camion che spinna. Però non voglio spinnare pure io. Guarda quel camion. Esp. No, posso vedere tutti i peloni. Come che sto citando. Ok. Vedo casa mia sulla minimappa. Sono vicino, forse. Quindi dove ho raggiunto in fretta. Vai, 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 vai. Dove vado? No, lì, no? Come fa strano vedere tutti quanti dove stanno. Ti può spiare qualunque persona. Vediamo. Ok, che sono? Sta qui vicino. Voglio andare qui dritto. E poi gira a sinistra. Vai, 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 vai. Slid pads. In che senso? Ma cos'è? Ma i peloni non camminano più. Volano. Scusi, signore. Salve, salve. Ok, ho raggiunto a casa. Ok. Salve. Sta a posto. Scusi, signore. Ok. Andiamo? Io ho paura. Corri, corri, corri. Dentro la casa. Corri, 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 corri. Oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia. Ok. What phone ringing? No, come? No. C'è la roba che il telefono suona. No. Io impazzisco adesso. Infami. Questa è colpa tua. Questa è colpa tua. Pure tua. Tua pure. Tutta colpa vostra. Infami. Infami. Adesso faccio saltare tutti in aria. Pure te. Vieni qua. Mamma mia. Mamma mia. Dai 10. Venite, venite. Dagli. 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 Voglio vendicarmi. Infami. Crumbling vehicle. In che senso? Crumbling vehicle. Che significa? Le ruote delle macchine. Oppure tutte le macchine stanno esplodendo. Ma tutte le macchine stanno prendendo le ruote. Ma che succede? Oh, mamma mia. Ma lo sbaglio stanno saltando. Io mi allontano. Io mi allontano. Lascia pure la polizia lì giù che non si può muovere. Mamma mia. Vieni qua. Che cosa succede adesso? Pensare a Brainyles. Ma. Ma. Tutto a posto? Scusi, agente. C'è un ferito. Agente. 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 Scusi. Scusi, agente. C'ha un problema. C'ha un fucile. Non dovrebbe essere così. C'è. Agente. Non so. Ci penso io, agente. Aspetti. Stia fermo. Stia fermo. Stia fermo. Problem resolve. Oh, ma. Smoke rain. Ma. Cos'è sta roba? Aiuto. Pure gli elicotteri. Mamma. Che casino. Oh, mamma mia. Aiuto. Ma che è sto caos. Ok. Dobbiamo rubare la macchina. Che può succedere qualcosa di peggio. Quindi aspetta. Facciamo una cosa. Aspetta. Io qua. C'ho i trucchi. Rocket. Ok, c'è la macchina. Parti, 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 parti. Vai, vai, vai. Ok. Ok. Ho paura di quello che potrebbe uscire. Di midemina dobbiamo seminare la polizia. Per il momento non sono morto. C'è un terremoto. No, no, no. L'ha appena detto. L'ha appena detto. L'ha appena detto. L'ha appena detto. L'ho appena detto. L'ha appena detto. L'ha appena detto. No, 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 no. No, no, no. Sono morto. Sono morto. L'ho appena detto. Oh, no, 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 no. Non è che posso risponare, aiuto Ok, si è calmato Ora cosa sta per uscire? Lasciate i cittadini scorreggendo ancora Quelle fumogeni là Eh? Paolo, compagno Yo, ho un compagno con un lanciarazzi Mamma mia Allora, dobbiamo far esplodere tutti quanti Guarda quello là, vai, spara, spara, bro Spara Non hai sparato Vabbè, fai niente, bro Macchina confiscata Nino, Nino, Nino Vi dia la sua macchina Jump, jump, no, io ora No, 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 no E come faccio? Non posso andare più in macchina No, no, quanto dura, c'è pure la polizia Aiuto No Ti prego, fammi salire la macchina Ti prego, ti prego, aiuto Come faccio adesso? No, 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 no Dai, sta per finire, sta per finire Dai, 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 dai Ingeniore, posso prendere la sua macchina? Sensitive touch, no, sono troppo sensibile Vabbè, sono in macchina, adesso sono in macchina Però, 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 partiamo, partiamo, partiamo Partiamo Ok, sono ancora via, ho perso una vita sola Facciamo che ne devo perdere tre Se perdo altre due vite Ho perso Finisce il video Quindi dobbiamo sopravvivere altre due volte Oh mamma mia, io sto avendo molta paura Oh, c'è la polizia, vabbè Vai, vai Maxima No No C'è una mappa gigantesca No, 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 no Uffa Ma dà un fastidio Però sto dove andare almeno Cioè, non posso mai sbagliare Quindi Prima di tutto andiamo alla radio Mamma mia, sta radio in mezzo Ok Giriamo qua a destra Vai Ok Quanto dura Guarda a destra Dura tantissimo Mamma mia Da me cosa esce? No Vado per a 30 km orari Mamma mia Che brutti sti due effetti Io li odio Mamma mia Ok, andiamo di qua Cosa possiamo fare di missione nel metro? Perché mi affido una missione pure da fare Laggiù c'è una telecamera Visto c'è una mappa ingrandita Perché non ci andiamo? Quasi quasi Per il meme Quindi cammiamo strada Andiamo di qua Pip 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 Scusate Permesso Permesso Non alla patente Scusate No, come combo? Come combo? Ha una vincibilità Un raid pitch In che senso? Time I suoni delle macchine Sentite come sono adesso La mia macchina Che strano sto suono Senti, facciamo una cosa Prendo la moto Devo mettere la mia posta per finire Bro Sali bro Però quando vuoi c'è È vero Mettetemi il casco È sempre importante Soprattutto in moto Lui è cattivo Lui di sicuro Salta in aria Quando No, 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 no Ecco Se io ho il casco Io posso sopravvivere Lui no Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Fra Aiuto Che sta succedendo Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia No adesso io la combo Succede ancora più casino No Visto? Lui non aveva il casco Visto? Non aveva il casco L'avevo detto io Penso questo non mi sa Invece mi sta salvando con un casco Ripa il veicolo No Fra Guarda che sta succedendo Ma Ma che caos Dammi sta macchina Questo qua c'è la nuova la macchina No raga Un casino l'audio Mamma mia Ok sapere Un altro evento? Dovrebbe essere doppio pure questo Vediamo Vediamo Oh Anderanno Mampi Che tu hai per i vivi Oh io Una macchina velocissima adesso No traffic Dai Come Veicolo No Buon sale Finito il veicolo Oh mamma mia No Non ci capisco niente adesso Mi sta facendo impappinare il cervello Però è bellissima la macchina così Complimenti Complimenti ai creatori del gioco La mod Mamma mia Ok Però sono ancora vivo Per quanto tempo Minions In che senso? Io I cittadini sono Minions Scusi Pignore Mamma mia Il claxon Mi sta facendo impazzire Ma tu non è un casino No senti Io ti dico No 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 Senti Io non ce la faccio Mamma mia Mi esplorano orecchie O sto così aspettando O niente Ma la mia arma è gigantesca Ma cos'è? Ok Vediamo chi arriva Che è arrivato? Not Manned dance Che senso? Vabbè non lo so Vediamo Io non te l'aspetto Mentre Ok signori Sta per avere l'effetto La roba dei piccoli sta per finire Quindi io salgo in macchina Mamma mia Sta partendo di nuovo il suono Full brinex Brinex E poco per ora Chi non lo sa Che posso vedere al buio Cioè vi do benissimo Nelle zone buie Che però spoiler Era giorno Però vabbè Comunque Ma c'ho il nitro? No Non posso fare il boost Comunque Siamo ancora a un buon punto Sono ancora vivo E l'ho appena detto Quindi morirò Devo soppermare ancora due volte Quindi facciamo una roba Vediamo per quanto tempo Ho riesco a soppermare Perché di tutto Non posso avere tutto il video Così perché Sennò il computer Mi esplode Breaking boost No 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 Oh mamma mia Oh mamma mia No 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 Aiuto Ma pure il mio veicolo Mica Sì pure il mio veicolo Oh mamma mia Pure il mio veicolo Sta andando velocissimo Fra Aiuto No Dai Era bellissima Sta macchina Aiuto 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 Force file Bro Aiuto Permesso Ah sono io Ve li spingo Che figata Ma è bellissimo Comunque dai Ce la possiamo fare Devo capire Cosa fare Vediamo Potrebbe andare in casino Quasi quasi Quindi Per finire l'effetto Full running ass Vediamo È giorno o notte ancora Che non mi Non mi abito più Ok no Where did you Where did you go Fra No non vedo niente Aiuto No 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 Aiuto Che sta succede No quanto dura Sto effetto Aiuto Aiuto Quando finisce Oh Ok Questo sta per uscire Ho paura Killer clown Yo No No c'è da clown assassini No No Infami Scappa 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 No 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 Che buona notte deve essere Dai Io odio Il posto di notte Che non si vede niente Vabbè facciamo una cosa Andiamo al casino Quindi Il mio cosiddetto Deve stare al sicuro No Ah Ti ho investito clown Vediamo No Sopre c'è un altro effetto Chroma traffic In che cosa è Non dimmi che nella mia macchina Fammi vedere Non si vede neanche niente al buio Ah no La storia cromatica Mi sa Tipo a raccobalino Qualcosa del genere Comunque Vabbè andiamo qua Siamo ad entrare Non siamo ad entrare Ah Questa è quella GTA online Ho visto l'inizio del gioco Non ho nessuna azione sbloccabile No Come non partire Ok Non partirà più la macchina Problem resolve Vediamo In the hood In che senso Non so che significa Vabbè Comunque Dai Dovevo andare in punto Vediamo Cosa potremmo fare Sto pensando Una stazione della polizia Qua si può entrare In questa stazione Sì Scusate Permesso Dove entrare Salve Non si può entrare Andiamo a negoziarmi allora Vediamo No 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 Ti prego Parti 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 Via 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 Sto bombardando Sto bombardando Bombardamento aereo Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Io vedo nei costi di armi Posso andare lì Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Vai 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 Fra Mi sono ricordo Dello schiantarsi Ma come no 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 Sto per raggiungere il punto No 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 Via 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 No io qua sono in pericolo Io qua sono in pericolo In mezzo alla strada Corri 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 Giù No Ho perso un'altra vita Me ne rimane solo una Se perdo questa vita Finisce istantaneamente il video Senza neanche autoro Niente Ma che sta succedendo qui Ma mi hanno detto che c'era oggi Qui ho già messo i meteoriti Aiuto Mi sembra una macchina Mi sembra una macchina Oh No questo non vale però Questo non vale Dai sono appena responato No questo non lo facciamo contare Ok questo Permettetemi però non vale Sono appena responato Non vale Eh Perché se no non faccio il gaming Remove current vehicle E che faccio ora Scusami Posso fare una roba Aspetta Rocket No no Moto Stai ferma Ok Ok Parto come un pazzo Parto come un pazzo Perché posso morire Instant così Perché sono in moto Devo stare all'angolo Devo stare all'angolo 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 Ok hanno finito il boost No di una roba dell'audio No Mi fa fastidio a me questo Aaaaaah